La situazione scolastica risulta oggi peggiori di quella di otto anni fa. Poiché il vecchio cronoprogramma è definitivamente fallito, come mai in questi mesi di sua competenza non è stato elaborato un nuovo e magari più affidabile? Sono le domande che la Commissione, oltre il MESP, rivolge al Sindaco dell'Aquila Pierluigi Biondi in una lettera aperta d'inizio anno, scritta con l'obiettivo di continuare questo percorso di cittadinanza attiva, ma anche di sottolineare l'immobilismo di questi anni, che è deleterio per la città. Poiché non ha avuto tempo di rispondere alle due precedenti richieste d'incontro della Commissione, oltre il MESP, scrivono, le scriviamo una lettera aperta con il proposito di promuovere confronto, dibattito e magari anche operatività. Da mesi speriamo che l'allargamento del fronte di protesta causato dalla vicenda Cotugno risveglia animi ed induca a cominciare finalmente a ricostruire le scuole in sicurezza, invece di sprecare altri soldi per cercare di recuperare le esistenti. Ci perdoni anche la sfaccia tattice di ritenere di poter contribuire ad illustrarle un percorso partecipativo sulla ricostruzione scolastica nel crater Aquilano, che in questi anni ha ricercato studiate laboratoline progettuali condivise col territorio, con i personaggi istituzionali che l'hanno preceduta, tanto da arrivare, per esempio, all'elaborazione di un masterplan per la scuola di Sassa. Durante questi lunghi anni post-isma abbiamo indetto assemblee cittadine e tanti incontri. Cosa non ha funzionato nel passaggio del testimone? Possiamo supporre, ad esempio, scrivono ancora che il nuovo gruppo abbia ricevuto le consegne dal vecchio e deve ricominciare tutto da capo? Devono passare altri nove anni di inoperosità? Non aveva detto anche lei che il problema scuola avrebbe avuto una sua attenzione particolare? Cosa dobbiamo pensare davanti allo sbandieramento di nuove cifre e progetti? Ci perdoni il pessimismo e infine la perdita della nostra iniziale ingenuità. Abbiamo creduto, anche noi, a promesse di assicurazioni che si sono rivelate decisamente false e veletari. Ad oggi neanche una scuola è stata ricostruita. Questo è l'unico dato certo e inconfutabile. E invece, eccoci qui, a quasi nove anni, dal 6 aprile 2009, in condizioni peggiori. I MUSP stanno dimostrando la loro provvisarietà. Le murature evidenziano la loro pericolosità. Alunni e alunni spostati e ammocchiati altrove, senza un piano d'azione condiviso, proposte dai comitati cittadini disattese, assenza di un programma riveduto e corretto. Che fare? Noi continueremo questo percorso di cittadinanza attiva ad impegnarci, a crederci, perché siamo insegnanti, genitori, ma anche cittadini e cittadini semplici, che lottano per un bene comune. La scuola, quella che passa anche attraverso la qualità e la sicurezza delle sue strutture, quelle da consegnare sindaco a bambini, bambine, ragazze e ragazzi della nostra città. Il 6 aprile prossimo indicherà che sono già trascorsi nove anni, senza aver fatto nulla per questa scuola. Che fare? Concludono.